Vendite al dettaglio in crescita ad agosto. Secondo i dati Istat, rispetto a luglio l'aumento è stato dello 0,4%, sia in valore che in volume. All'aumento delle vendite dei beni non alimentari si affianca una sostanziale stabilità per gli alimentari. Nel trimestre giugno-agosto 2021, le vendite al dettaglio aumentano dello 0,8% in valore e dello 0,5% in volume. Su base annua, ad agosto le vendite al dettaglio aumentano dell'1,9% in valore e dell'1% in volume. Tra i beni non alimentari crescono quasi tutti i gruppi di prodotti, all'eccezione dell'utensilleria per la casa, articoli tessili e arredamento. Gli aumenti maggiori riguardano gli elettrodomestici. Rispetto ad agosto 2020, il valore delle vendite al dettaglio cresce in tutti i canali, dalla grande distribuzione ai piccoli negozi e al commercio elettronico. Accesso facilitato per le piccole e medie imprese del Sud Italia ai nuovi finanziamenti agevolati per l'internazionalizzazione targati Simest, società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti. Il Fondo 394, gestito in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri per l'erogazione degli strumenti a tasso agevolato, è stato rifinanziato per 1,2 miliardi di euro dalle risorse dell'Unione Europea attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Due ai grossi vantaggi per le PMI del mezzogiorno, con l'intento di contribuire a colmare il divario con il resto del paese. Risorse dedicate per 480 milioni di euro e quota cofinanziamento a fondo perduto del 40%. Dalla Commissione Europea via libera nuove misure a favore del settore vitivinicolo e ortofrutticolo. Per il comparto del vino è previsto l'aumento del sostegno a strumenti di gestione del rischio, come l'assicurazione sul raccolto, oltre all'estensione delle misure di flessibilità già in vigore fino al 15 ottobre 2022. Per l'ortofrutta il sostegno alle organizzazioni dei produttori, solitamente calcolato in base al valore della produzione, sarà compensato in modo da non essere inferiori all'85% del livello dello scorso anno. I paesi membri potranno continuare a modificare i loro programmi di sostegno nazionali in qualsiasi momento, mentre di solito questo può essere fatto solo due volte l'anno. Per le attività di promozione e informazione, ristrutturazione e riconversione dei vigneti, la possibilità di concedere un contributo più elevato a carico del bilancio UE è prorrogata fino al 15 ottobre 2022. Inoltre, il contributo del bilancio dell'Unione all'assicurazione del raccolto è stato aumentato dal 70 all'80%. Per il commissario europeo all'agricoltura, Janusz Wojciechowski, quest'anno le condizioni meteorologiche estreme sono state particolarmente difficili per i settori vitivinicolo e ortofrutticolo. Queste misure di sostegno daranno sollievo ai produttori dell'UE, in aggiunta a quelle già proposte nel 2020 e prorrogate nel 2021. Tra i tanti problemi che il governo si troverà ad affrontare nei prossimi mesi c'è quello della tassazione. Infatti, in Italia le tasse sono molto alte rispetto alla media europea, per cui molti si trovano in difficoltà a doverle pagare. Ce lo dice anche una ricerca della CGA di Mestre che ribadisce che molti sono costretti all'evasione da sopravvivenza. Del resto, noi stessi spesso diciamo che le pecore vanno tossate e non scorticate, altrimenti poi finiscono con non produrre più lana. Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori.